Voi se soltanto sensibili al piasino l'animo vostro, abbandonate il palazzo, curatevi da altri banchetti e i beni vostri mangiate, scambiatevi in casa gli inviti. Se tuttavia vi parrà che scelta pregevole e saggia sia impunemente mandare in rovina i beni di un uomo, voi mieterete, ma io pregherò gli dèi vivi sempre, solo che Zeus mi conceda che un giorno se ne abbia compesso, invendicati verreste a rovina dentro le sale. Capito? Cioè è tutta una cosa. E dalla casa, e dalla casa ritorna, e dalla casa ritorna, non abbiano danno in futuro, non abbiano danno in futuro. E qui, futuro, fai un urligo. Nella donanza egli apparve, infignava l'asta di Croizzo, non era solo gli andavano accanto due cani verosi. e Shagura verrà per molti altri di noi che dimoriamo qui in Itacaprica Dico che adesso per lui si viene compiendo ogni cosa come gli avevo predetto allorché gli argivi perivio si erano mossi e con loro andò, disse Orico d'ingegno Date ora ascolto a me, voi, Itacesi Ma quello che dico? Come apparì Mattutina, l'aurora che a vita di rosa il caro figlio di Odisseo allora salzò dal sole No, non ho dita notizia, l'esercito che sopraggiunge nuova che a voi direi chiara, mi avessi ascoltata per primo Tanto nessuno più serva memoria di Odisseo divino Oh, non godrebbe di lui la donna che tanto lo brama Quanto piuttosto tua madre che troppe scaltrezze conosce